Ciao a tutti e benvenuti a questo podcast settimanale, questa settimana, questa volta voglio parlarvi delle similitudini, diciamo così, che esistono tra il mondo delle delizie del super bonus al 110 e i mercati finanziari, perché ne abbiamo parlato molto di recente, nel campo dell'edilizia si è assistito nell'ultimo periodo, negli ultimi sei mesi, vorrei dire nell'ultimo anno a un rincaro dei prezzi sempre più incredibile che, giustificato, ma solo in parte, dal fatto che le materie prime sono aumentate a livello globale, ma nel nostro Paese c'è stato un incentivo enorme, soprattutto per queste agevolazioni fiscali, ha visto dei prezzi crescere in una maniera tale che i più dovrebbero dire di fronte a questo aumento indiscriminato, un attimo mi fermo perché è inutile che vada avanti, i prezzi sono troppo alti. Si dovrebbe pensare però perché invece questo meccanismo non si ferma, perché il rincaro di tutto quello che concerne a 360 gradi il campo dell'edilizia, perché poi è chiaro, isolamenti, finestre efficienti dal punto di vista energetico, piuttosto che isolamenti dei tetti, laterizi, legname da costruzione, insomma tutto questo sta aumentando in maniera incredibile, stanno aumentando tutte queste materie prime esattamente come stanno aumentando le azioni di Apple, le azioni di Google, le azioni di Amazon e chi più ne ha più ne aumenta. Ma perché? Quali sono le analogie tra i due settori? In ognuno dei due casi il meccanismo è sostenuto da un boost, da un boost immesso nel sistema che ha creato un volano incredibile e in qualche modo getta le basi e mette le condizioni per questa inflazione generalizzata che si manifesta sia nell'edilizia, e questo noi lo capiamo bene, sia nei titoli, nei prezzi dei titoli, delle azioni. Cerchiamo di capire. Quello che ha fatto il governo italiano creando questo bonus, super bonus al 110, è che in fondo ha creato un volano dove più o meno si dice, hai una casa efficienta energeticamente e io ti ripago tutto quello che fai per fare questa efficienza e tra i Nato anche delle migliorie più o meno, o una buona parte delle migliorie che tu vuoi farti all'interno. Ecco è chiaro che questo è un incentivo troppo forte, troppo grande, un innesco troppo grande per passare in ascoltato, è più o meno del tipo ti fai quasi tutto, ti metti a posto e paga qualcun altro. Questo diciamo così consente anche un po' il moral azar di dire, posso quindi anche accettare un aumento indiscriminato dei prezzi, tanto non sono io che pago, ma questo serve soprattutto a farci capire che è quando qualcun altro innesca la miccia che poi il sistema deflagra, perché qui l'innesco della miccia viene da parte dello Stato che mette un contributo addirittura dove tu prendi più di quello che ci metti, più del valore che crei addirittura, quindi ci guadagnano tutti e ci puoi guadagnare un pochino anche tu, anche cedendo il credito comunque prendi più o comunque al massimo il 100% se fai lo sconto in fattura. Questo ci fa capire il potere di mettere la liquidità nel sistema e in campo edilizio sono certo che tutti noi lo capiamo molto bene. In campo finanziario succede la stessa cosa, anche lì c'è un'immissione di liquidità, è la stessa cosa che il governo italiano ha fatto per il super bonus, l'hanno fatta le banche centrali con i mercati finanziari. La liquidità va a comprare i bonds, va a comprare i titoli di Stato e a quel punto rende così schiacciati verso il basso i rendimenti che per gli investitori tradizionali non è più possibile comprare i titoli di Stato. Allora questi si rivolgono tutti in grande massa al mondo delle azioni, diciamo così in nome del motto è non c'è più alternativa e allora vado a comprare le azioni, i prezzi delle azioni si gonfiano all'infinito. Anche qui vige la regola che se non c'è alternativa e tutti comprano quello i prezzi salgono perché le azioni sono un bene di cui ce n'è un numero limitato, il denaro qui sembra che se ne possa stampare sempre più all'infinito ed ecco quello che si crea ed ecco quello che si genera. Ed esattamente così come il governo creando gli incentivi del super bonus ha creato come una moneta fiscale che ha dato il là a questo volano, le banche centrali hanno creato questa nuova moneta stampandola e creando volano in questo caso nella finanza. Ci sono però due aspetti che bisogna considerare. Il primo è che noi abbiamo sempre parlato di due pilastri a sostenere il rialzo dei mercati, uno appunto quello di questa emissione della liquidità e l'altro era anche il fatto che però le aziende, soprattutto quelle americane, con le loro guidance, con le loro aspettative date trimestralmente in pasto al mercato hanno contribuito ad alimentare questa prospettiva di crescita infinita e illimitata. Solo che adesso stiamo vedendo che il mercato ha vissuto un periodo, diciamo settembre, inizio di ottobre, dove sembrava quasi un po' ripensarci quella zona che io chiamo la zona pavè e poi sono arrivate delle trimestrali che in effetti giustificavano questo momento del mi fermo e ci rifletto, perché tutto sommato alcune trimestrali, mi riferisco a Apple, Amazon, non hanno dato gli stessi risultati, le stesse aspettative di prima, anzi dicono che il prossimo magari sarà ancora peggio o Apple addirittura dice non faccio previsioni. Ecco, a questo punto però allora uno poteva aspettarsi che il mercato tirasse il fiato, invece no. Si è capito che il pilastro della liquidità, quello lì, era ancora più forte e nonostante il tapering che è solo dire che ne continuo a mettere ma ne metto un po' meno e poi ancora un po' meno, però continuo a immetterla per ora, ecco questo è talmente forte che fa dire non c'è alternativa, anzi dirò di più, è talmente forte che non basta più, il verismo alternative non vale più nemmeno solo per le azioni, siccome non c'è alternativa non solo mi compro le azioni, ma vedendo che c'è un po' di difficoltà a reperire materie prime, mi tuffo speculativamente anche sulle materie prime dando come finanza un contributo notevole a questo rialzo a cui abbiamo assistito sino a qualche giorno fa del gas naturale, dell'oil, di tutte le altre materie prime che si sono mosse, perché tutte le materie prime si sono mosse fortemente a rialzo. Una parte di quel rialzo era figlio delle difficoltà nell'economia reale, i colli di bottiglia, la difficoltà dei trasporti e quant'altro, una parte è figlio della speculazione finanziaria che disponendo di grande liquidità e alla ricerca di storie di cavalcare, da cavalcare su questa penuria si è gettata per speculare e così facendo siamo arrivati al paradosso per cui il denaro immesso dalle banche centrali a comprare bonds che doveva rimanere nell'alveo della finanza, tramite poi gli acquisti anche di commodities perché non c'è alternativa, si è trasferito di fatto nell'economia reale perché adesso quell'inflazione lì causata anche dalla speculazione finanziaria, la pagheremo tutti nelle varie bollette del gas, della luce e di tutto il resto o magari anche quando andiamo a farci il super bonus per sistemare la casa. Credo che adesso sia un po' più chiaro il concetto, non è facile capire quando questo meccanismo finirà, non è facile capire quando torneranno normali i prezzi nel settore edilizio, ma forse si può ipotizzare che uno dei primi modi per farli tornare a livelli accettabili sia quello di ridurre un po' l'entità di questi bonus che sono nel sistema, soprattutto di quelli dove il pagamento è di tutto perché come dicevo giustificano il moral hazard in qualche modo o incentivano il moral hazard di chi a quel punto se ne frega del prezzo perché tanto non paga lui. Dall'altra parte in finanza l'equivalente di togliere un bonus è quello di fare un tapering più definitivo e quindi levare questo paracadute. Staremo a vedere, i tempi sono lunghi, di certo questo è un mercato su cui conviene stare attenti a parte il ritracciamento di breve periodo ad andare short perché la liquidità in gioco che rema verso l'alto è ancora tantissima. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!